un'altra pagina si sta per aprire prima di tutto assolutamente ti voglio ringraziare dal profondo del cuore per avermi accompagnato in questi 31 giorni del nostro diario giornaliero per ottobre e proprio per questo se ancora tu non ti fossi iscritto al canale ti invito davvero a fare il gesto più semplice che ci può essere tuttavia molto importante per la crescita dei contenuti di valore insomma di questo canale youtube quindi iscriviti attiva la campanellina e poi metti un like insomma o condividilo con chi con chi vuoi ovviamente ci sono tante cose da dire tanti aneddoti specialmente anche in questi ultimi giorni dove sono stato fuori a in un periodo ogni tanto la persona che crea contenuti e oltre che pensare a tutti gli aspetti tecnici e quant'altro magari un giorno ne parleremo e chi lo sa consulenza sapendo quello che puoi ottenere quello che ti serve quello che magari stai cercando insomma davvero ho messo un bagaglio di esperienza adesso molto importante e quindi ho bisogno proprio di staccare e sono stato davvero da dio quindi è una stata una riconnessione con la natura ho passato dal mare alla montagna insomma e proprio anche al silenzio e anche a ritrovare insomma amici e quant'altro adesso veniamo a noi io ho da dirti qualcosa di importante perché adesso iniziamo a davvero oliare il tutto e a mettere in accensione il rombo dei motori e stai magari anche sentendo a parte tutto allora innanzitutto scrivi nei commenti se hai visto i video se hai già visto qualcosa del canale se sai anche di che cosa mi occupo io amo definirmi coach della metamorfosi perché comunque io a parto sempre dal mio libro qua avendolo scritto nel 2017 che parla della mia esperienza dopo aver vinto una dipendenza dal 2011 quindi sicuramente è qualcosa che non tutti magari possono tra virgolette vantare perché ovviamente da la disperazione più totale da poter essere nell'altro mondo a diventare una persona libera comunque della dipendenza e diventare un imprenditore online un imprenditore digitale un nomade digitale come amo anche definirmi e insomma ci passa davvero tanto quindi e questo non è un video che voglio tirarmelo a vantarmi nella maniera più assoluta perché sono in un percorso sono in un cammino ho tantissimo da imparare da apprendere sono pronto anche a confrontarmi con te insomma quindi non sono né un guru né un un dottore uno psicologo qualcuno che che vuole darti la lezione o dirti come va la vita nel senso io parlo di quella che è stata la mia esperienza quindi ho unito l'esperienza a tutta la conoscenza avendo dal 2016 iniziato a studiare tutto quello che riguarda oltre la parte business online e soprattutto anche la parte di crescita personale quindi dove specialmente dalla quarantena ad oggi ho lavorato moltissimo con consulenze con coach private dove mi sono specializzato proprio nel cambiare le abitudini ecco questa è una cosa che io inconsapevolmente ovviamente nel periodo quando stavo mettendo fine alla mia dipendenza ho provato sulla mia pelle senza avere cognizione di causa ovviamente sono stato insomma aiutato ho avuto persone a mio franco competente e quant'altro quindi poi lo scrivo anche nel libro ovviamente ti invito poi a vederlo insomma a richiedermelo e per me sarà un piacere inviartelo e quindi serviva capire anche tutto il processo il procedimento creare dei protocolli dei modelli e poter aiutare le persone con un sistema duplicabile e replicabile ovviamente mi sono affacciato negli ultimi anni specialmente dal 2018 proprio in maniera importante al business online facevo parte di una collaborazione con un'azienda che si occupava di viaggi di vacanze e sai perfettamente che da marzo del 2020 quel settore è stato massacrato quindi abbiamo dovuto reinventarci e quant'altro quindi ho sicuramente sfruttato la competenza che avevo creato in base proprio alla crescita personale su questo e vedendo insomma quello che in questo momento può far guadagnare le persone affacciandomi anche a business finanziario e quant'altro quindi davvero possiamo ottenere diverse soluzioni abbiamo diverse frecce al nostro arco posso dirti quindi che cosa posso fare per te in questo momento sicuramente fare una consulenza fare una consulenza darti la possibilità di prenotare mezz'ora finché in questi dieci giorni ho la disponibilità c'è anche un link qua sotto dove puoi prenotare e capire insieme davvero come posso aiutarti io lo so ovviamente dipende quello che sarà la nostra chiacchierata insieme perché davvero qui posso darti uno strumento veramente veramente potente e questo è qualcosa che posso dirti con estrema certezza quindi ovviamente io ti posso aiutare magari se in questo momento ti addormenti la sera e hai quei pensieri che non ti fanno riposare bene magari ti addormenti già pensando alle cose che devi pagare quello che non funziona magari non ce l'hai così io ho vissuto queste situazioni e ti assicuro che è brutto è brutto davvero averci sempre questi pensieri addosso queste situazioni che non sono anche solo di soldi ma proprio di insoddisfazione e neanche ti parlo del periodo della dipendenza perché quello è veramente un'ipotesi estrema è proprio qualcosa che c'è dentro e io mi sono ritrovato in questa situazione e ti assicuro che insomma fai pensieri brutti non è bello non è bello assolutamente da vivere quindi se anche tu ti fossi ritrovato in questa situazione io ti capisco ti capisco perfettamente perché quello che divulgo quello che applico insieme alle persone che aiuto è proprio perché l'ho provato in prima persona e c'ho la soluzione per cucirti diciamo il tuo abito su misura il tuo abito sartoriale su misura questa è la cosa importante ovviamente poi non sto qui a prometterti che guadagnerai X oppure diventerai capo di quella situazione oppure conquisterai questa ragazza no, non ti dico questo tuttavia ti posso dire che la vita può assolutamente rovesciarti sia dal lato personale che dal lato professionale perché comunque sia adesso ci saranno delle grandi 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 novità insomma anche a livello proprio di user experience e chi è usufruitore in questo momento penso tante avete provato corsi online e quant'altro quindi io le ho proprio realizzate tecnicamente anche dal lato proprio di programmazione quindi davvero so di che cosa dico e ho in mano qualcosa di importante ovviamente magari potresti dire ma sì ho visto tante cose magari non ho quella costanza non ho quella Luca sì, tanto sono tutti uguali ho capito questo ne parliamo quello che io ti dico è che su certe cose hai davvero ragione hai davvero ragione perché manca quella spinta quella situazione quando succede che in determinate situazioni ti passa la voglia di fare quello che sai che va fatto per il tuo bene ma non lo fai perché comunque siamo riportati indietro dal nostro cervello e quant'altro sai che anche nei miei video l'avrai visto dove facciamo tutto la parte della mente conscia la mente inconscia il 95% che è già programmato nella nostra mente la mente che ci vuole proteggere insomma davvero ho realizzato tanti tanti webinar in questo senso e quindi puoi veramente anche vederli nel videocorso il cervello di un bambino quando nasce è aperto pensate che sia aperto pensate che è proprio veramente una scatola aperta qualcosa di aperto lui prende tutto tutto nei primi sette anni di vita e negli ultimi tre mesi che si è in pancia perché ho detto alcuni hanno sentito è importante che se sei un genitore di partecipare a questo webinar se tu hai un figlio che ancora deve fare sette otto anni questo non lo dice Luca Vittaglia questo lo dice la scienza lo dice inizia a capire i più grandi i menti illuminati del passato del presente questo questo è il grande segreto perché noi ci costruiamo perché i bambini apprendono in maniera rapida veloce un bambino se ha genitori se ha familiari che parlano tre lingue questo bambino ti parla l'inglese il francese il tedesco insieme all'italiano in un attimo le impara dice un bambino a me mi ci vuole chissà quanto non ho un metodo un bambino impara subito perché perché assorbe ogni cosa è lì che si crea tutto quello che lo porterà avanti nella vita in quel periodo e quindi prova a immaginarti discussioni cose brutte tutto quello che può sentire quello sarà parte della sua vita non parte sarà la maggioranza quindi e noi non ci ricordiamo ovviamente di tanti piccoli episodi ma è proprio arrivare a ritrovare quelli è facile è questo perché ci sono due menti all'interno del nostro cervello ma solo una è la tua questa è la mente conscia che è il tuo programma che opera nel cervello questa è la mente creativa quella mente che ha i sensi che può vedere che può annusare c'è il gusto ascolta tocca questa è la mente creativa che pensa e ci fa fare cose nuove la mente subconscia questo è il programma che funziona con l'autopilota inserito questa è la causa dei risultati che hai adesso prova a pensare a un iceberg questa è un'immagine famosissima che chi ormai mi segue lo sa no la mente conscia quella che tu comandi con i cinque sensi con le alte facoltà sono il ragionamento logico il pensiero volontario le azioni volontarie sono il 5% delle tue azioni quindi la domanda è ma se tu hai la padronanza del 5% delle tue azioni ma quell'altro 95% ma che succede? succede che va avanti con quell'autopilota che è stato programmato da quando sei piccolo quel 95% che ti guida gli impulsi ragazzi a volte ci sono degli impulsi che gli animali farebbero meno sono quei pensieri automatici vanno in automatico quelle azioni che oddio ho fatto questo ma sì perché se è acceso quel file c'è quell'impulso lì quella reazione è collegata immaginatevi come un bottone no io ho questa percetto ho questo impulso qui pum si accende una lampadina una spia e quella spia c'ha quella reazione che dipende da come è stata programmata chi l'ha programmata l'ha programmata come abbiamo vissuto da 0 a 7 anni ci rendiamo conto quindi tutte le emozioni tutte le esperienze passate ci ritroviamo e quindi proprio per questo ti dicevo che dobbiamo assolutamente fare una lotta fare una lotta con una parte di noi e un'altra quindi ma davvero dobbiamo fare una lotta o possiamo trovare un accordo ecco questo è quello che andiamo a parlare insieme nella consulenza trovare questo accordo ma non per forza con gli altri in primis dentro noi stessi è quello che poi fa la differenza quindi salutandoti in questo momento e comunque invitandoti ad iscriverti al canale ti invito anche se vedi ancora il link che è disponibile a prenotare una consulenza gratuita dove male che vada hai sicuramente conosciuto qualcosa di nuovo di differente di unico perché chi ti parla ha davvero vinto una dipendenza come testimoniato nel mio libro nero su bianco quindi so di che cosa parlo dopo averlo provato in prima persona quindi avere messo a disposizione delle persone un metodo sicuro testato e garantito che ti permette di cambiare le abitudini quante volte l'abbiamo sentito ecco adesso sei davvero un click da sapere come puoi fare anche tu ti mando un bacio e è stato davvero un privilegio averti avuto in questo video ci aspetta qualcosa di spettacolare